Per questo video e per questo ritorno delle live reaction Io vi chiedo 5000 like ITERIUVENTUSURCASPO.MP4 E questo video è offerto da OneFootball La migliore app del calcio per IOS e Android Scaricala nel primo link in descrizione Per rimanere sempre aggiornato sui goal del Gonzalo Iguoi Sei al limite perfetto guardami sei perfetto Sei un signore buongiorno Stiamo a battito cardiaco Sì sta morendo Non metti a me? Muoi Così? Ho fatto capire? Un numero particolare Maurizio Sampi Non è un laser allucato Se mai questo video dovesse uscire 5000 like Ma c'è l'idea? Si 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 Carire abbiamo di Juventini quasi nessuno però Sì questo è un feed Sì vabbè Due finalistiche provano un po' di odio verso la Miranone L'Azzurra Non è un po' di odio Non è un po' di odio Non è un po' di odio Ragazzi io me lo chiedo Pronostici Fatti 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 1 2 1 2 C'è nessuno dall'intervista Ma c'è D'Ambrosio allora? Un secondo Ti ho detto Poi c'è un secondo D'Ambrosio Oh Quale cazzo ti dice? Dite Dite E' un maio Dite Uccideteli Mamma un favore Mamma un favore Dottore Dottore Gli occhiali Gli ho visto Uccanata E' un po' di odio Nooo Fuglia Dottore C'è un po' Dottore Dottore E' un po' di odio C'è un po' di odio Dottore Moderna Oh Pauro Pauro e' tanto quello che dicono in 3 su 1 e poi si dimentica che parte da solo e mi viene andando nei spani primo gol è passata e' in salita ok e' la 0 4 ma che ma fa la finita ma non è la finita e dai che un calcio bravo bravo oh ma sicuro ma sicuro ma roma 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 controchie roma 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 no alchimato il proprio senso che sta per arrivare per i miei 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 ma no ritorno 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 vabbè col varte ritorno è la primavera di no ma non sono no no non sbagliate non sbagliate non sbagliata tt armi ritorno 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 no ritorno 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 ona dogma ok quindi fai me ritorno ma cosa che cambia il fumo si tratta per l'indirizzazione per l'indirizzazione per ioi 4 4 ma che cazzo fai? oddio bravo no 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 e carichi il cambio prima del caccio di direzione la partita di Sensi al suo posto di Sensi ma ti affidava, ma ti affidava eh, si è no, di Pesino portare la palla, no la ripresa Pesino mi sembra vero va a cercare di Pesino sorpotore eeeh eeeh quanto spazio almeno per la stai largo fai qualcosa, non lo so eeeh eeeh mamma mia ma il puro distrutto non mi fa giocare non mi fa giocare quasi eeeh eeeh venga no 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 io solo andrei davanti al palesterno ieri si va appena a fanguacana 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 fonguacana ieri ieri l'amore io ho avuto io ho avuto io ho avuto l'amore volete davanti non è vero io non so che c'è la roba mi serve l'assistente non è vero non è vero la roba la roba il diritto no no il gioco al punto la vita per favore su di me e' vero ma spiaggia s la verità non mi riempio no no ma non si può essere rilevato non mi puoi dire qui ci fa ma non è la mia volta qui dai piacere E' una scopidone! Metti il FIFA! Dai Gonzalo, dai Gonzalo! Dai Marone, vai! C'è la contra, segnala sotto la curva lì! Come l'anni scorsi! Uuuuh! Era 1-1 anche lì! Nooo! Allora prima che è venuta a curva e per la testa che qui bisogna capire come si piazzò lì! Perché? E' sempre una giù! Brodovici! Eeeh Brodovici! Daiiii! Sono in due lì, troppo spazio, troppo spazio! Bentancur però non è possibile che entri sempre muore! Ma che c'è sto ragazzo? Ma chi lo fa? Ma chi lo fa? Ma... L'assist di Asamuai? Ma chi hai? Dici, Gonzo, vedete? Ma si vuoi! Ma venne ha fatto di Messino per Luca Fru! Ma... Ma... Sei! 250 kg per 89 di gamba! Ma diopente! Perché adesso è il momento di Ebreciano, vedremo! E' il segretore! E' la mia cosa! Dai! Non ho mai giocato una partita di calcio quest'anno in Brescia! Ma è bomba! Ma riprende Messino! Oh! Mammà mia! Non mi faccio Piedere! Ehm... Mamma mia! Che pane! Pallieee! Pallieee! Mamma mia che palla! Oh, andrà! Eccolo! Eccolo! Di Luca! Ma... Ed ecco uno... Cisca. Ma... Oddio! Eccolo! a me e vabbè la macchina ok i cuori del canto occhio e vabbè dai va bene è tutto regolare da dietro dai questo è ricco dai ragazzi da dietro gli hai franato addosso stava tirando poteri forti come sempre quando ho fatto la giuna in mano quando nel gioco rubano contro dunque vado in mano forse il problema sono io è finito un giglio ma che è 71 aspetta 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 minima il 90 come fa che è 71 battita al secondo ma che è 71 battita al secondo ma che è un bel in un minuto ma non ci si fa siamo andati anche per anni come siete voi io e poi chi ahhh che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo è sempre di è sempre di oh non fai tutto io ho messo fino al 90esimo non è quel anno io ho chiesto ma non è finito ma non è fai Oh! 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 Tanto non è finita! Se vuole il possibile i guagli purvi sempre, ci credo. Riccardo! Per chi? Se la Junta vince, la prima di noi! Mamma basta! Ma fanno di piangere! E' buttato fuori ragazzi! Allora sono stati 24, i passaggi non crescono il gol di Guagli. Eh si! Palla dentro per Vensiglio! Vai! Tanti! Non so altro che sento come in palle, quello che si buca come di questi fantasmi. Si! 71 dai, ma che... No, mi ci devi aspettare! Vibra! 118! 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 129! 138! 139! 129! 149! 108! 129! 141! 149! Son Krank in ultimo! 149! 149! 1410! 159! 159! 159! 152! 159! 159! 169! cosa verona il gara le regalano mannaggia dei 30 migliori che ti danno si può fare il il marco il la Sì, oh, dai, sei il mio amico. Ho indovinato il pronostico. Se non sbagliavo il risultato esatto. Che cosa vuoi gufalo? Gufalo!